I beneficiari dei buoni libri relativi agli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018 potranno soffrire del contributo loro spettante a partire dalla prossima settimana. Il Sindaco, dopo i nostri servizi, ha dato una risposta ai cittadini. Ascoltati attraverso i nostri telegiornali le giuste lamentele di tantissimi genitori, il Sindaco Ciampi ha voluto risolvere il problema attivando chi di dovere. Pertanto i beneficiari dei buoni libri relativi agli ultimi due anni potranno soffrire del contributo loro spettante a partire dal 26 luglio. I relativi mandati, infatti, saranno in pagamento da quella data presso il tesoriere della Banca Popolare di Bari. Una buona notizia per le 3.500 famiglie che aspettavano da tempo di poter ricevere le somme dovute che variano da 250 a 300 euro. I buoni libri o del resto sono un aiuto importante per migliaia di famiglie in difficoltà che a breve dovranno sostenere nuove spese per l'acquisto dei libri di testo del nuovo anno scolastico, che poi non è così lontano.